Bentornati ragazzi sul mio canale, sono Divix, finalmente è tornata la playlist di calcio mercato perché oggi, proprio oggi, sta svolgendo le visite mediche per l'Inter Victor Moses un giocatore sconosciuto ai più, quindi ho voluto fare un video di approfondimento in cui spiegavo chi è Victor Moses, dove gioca, vi faccio vedere un po' di video di Victor Moses qualche numero, ma soprattutto vi chiedo di arrivare alla fine del video perché farò alcune considerazioni sul mercato dell'Inter e poi vi faccio una domanda particolare a cui neanche io al momento riesco a dare una risposta quindi voglio sapere la vostra opinione Buona visione Chi è Victor Moses? Intanto vi dico subito che non è un giocatore vecchio qualcuno online sta dicendo che a fine carriera in verità Moses ha compiuto 29 anni il 12 dicembre perché è nato nel 1990 quindi è un giocatore che è andato via dal Chelsea un anno fa aveva appena compiuto 28 anni e arriva dal Fenerbahce dove è in prestito da un anno dove gioca Victor Moses? Victor Moses nasce ala è un attaccante esterno, ha giocato addirittura come seconda punta in qualche situazione e Conte è stato il primo e unico che l'ha inventato a centro rampista lo schierava nei 5 di centrocampo esterno di destra la prima domanda che vi starete facendo è se può giocare anche a sinistra vi dico sì attaccante esterno ha giocato anche a sinistra a centrocampo potrebbe avere qualche difficoltà lo vedo più come un sostituto di Candreva in questo caso Ashley Young che è appena arrivato all'Inter andrebbe a sostituire eventualmente Biraghi vi faccio vedere subito i video di Victor Moses come al solito non sono andato a prendere immagini nel top della carriera ma ho cercato immagini relative all'ultimo anno e mezzo in modo tale che vi possiate fare un'idea realistica di com'è Victor Moses oggi eccolo qua, lo state vedendo Victor Moses partiamo dalle qualità Moses è un giocatore di corsa molto forte sulle gambe è anche veloce e soprattutto in progressione è difficile da contenere e soprattutto è difficile da tenere fisicamente essendo molto grosso e massiccio proprio per questo motivo Conte lo arretra facendogli fare il centrocampista di destra in un centrocampo a 5 perché realmente è un giocatore che è in grado di coprire tutta la fascia ha una grandissima facilità di corsa e anche una grossa resistenza in fase offensiva è un giocatore che si butta dentro e in contropiede può essere veramente letale è un giocatore che punta l'uomo quindi paragonato agli attuali esterni dell'Inter che sono accusati spesso di essere molto statici sicuramente aggiungerebbe perlomeno imprevedibilità un'altra sua qualità che è abbastanza duttile come ho già detto prima può essere schierato in un attacco a 3 sia a destra che a sinistra o a centrocampo non escludo che Conte l'emergenza possa addirittura anche schierarlo a sinistra anche se la vedo come un'ipotesi estrema andiamo ora ai difetti di Victor Moses il primo difetto commesso è che è una tecnica non eccellente non è un giocatore bello da vedere è un giocatore che sa saltare l'uomo tiene la palla abbastanza lontana dal piede poiché cerca molto la velocità e la corsa e usa il corpo e il fisico non sto dicendo che sia un giocatore scarso ma sicuramente la tecnica non è la sua qualità primaria il secondo difetto che secondo me è il più importante è che è un giocatore confusionario molto istintivo è un giocatore poco ragionato non è un giocatore che gioca con la testa alta e sicuramente Conte è stato molto bravo ad adattarli in un centrocampo a 5 poiché ha dovuto insegnargli anche la fase difensiva e sicuramente non è stato un compito facile il terzo difetto che ha inserito Moses sembra in una fase calante alla sua carriera arriva da un brutto infortunio e adesso poi ne parliamo ma l'interno sta prendendo un giocatore al top che arriva dal Chelsea e quindi sta prendendo un giocatore che comunque non è riuscito a lasciare il segno in Turchia parliamo degli infortuni Vittor Moses sapete tutti la vicenda Spinazzola ho fatto due video su Spinazzola li trovate sul mio canale se volete vederli uno riguarda lo scambio e uno riguarda la trattativa saltata Moses ha giocato l'ultima partita il 3 dicembre del 2019 quindi è fermo da un mese e mezzo ha avuto uno strappo muscolare e poi ha avuto una ricaduta nelle prime 18 giornate del campionato turco ne ha giocate 6 e la prima è uscita appunto a settantesimo per infortunio state vedendo qua la pagina di Transfermar che conferma quello che vi sto dicendo perché il Fenerbahce sta ridando Moses al Chelsea? c'è a dire che il campionato turco è un campionato diverso è una cultura diversa e a volte è difficile adattarsi a culture così diverse alla propria guardate i giocatori che vanno in Cina non tutti hanno fatto benissimo proprio per questo motivo e quindi perché Conte vuole Moses? la prima domanda che vi faccio è siamo sicuri che Conte vuole Moses? tutti hanno scritto sì è l'uomo di Conte in realtà ovviamente Moses è un tappo l'Inter aveva scelto Spinazzola poi qualcosa non è andato per il verso giusto non voglio entrare nell'argomento e nella polemica ma Spinazzola sicuramente sarebbe stato un titolare nell'Inter Moses in questo caso invece è stato preso per fare da Riserva a Candreva e probabilmente a fine anno verrà rispedito in Inghilterra questo però cosa vuol dire? l'Inter attualmente ha in rosa Biraghi che è in presso dalla Fiorentina e anche lui probabilmente nel prossimo verrà rispedito a Firenze Asamoah sta avendo diversi e gravi problemi fisici e non si sa quando ritornerà Candreva che è l'unico giocatore sano che in questo momento sta giocando quasi tutte le partite ma non ha una vera e propria riserva Lazzaro che sta andando in presso anche lui e non ha lasciato il segno e Ashley Young che è un giocatore di 34 anni che sono sicuro che potrà fare bene e dirà su all'Inter ma ovviamente è un giocatore che può essere utile nel breve ma non rappresenta il futuro dell'Inter questo vuol dire che l'Inter si sta esponendo e sta apertamente dichiarando che in questa finestra di mercato sta cercando di mettere un tappo poco costoso al problema sulle fasce e per l'estate prossima si ipotizza che il grande investimento dovrà essere fatto proprio in quel reparto l'Inter va a comprare un titolare a sinistra e un titolare a destra di alto livello e quindi la domanda è questa chi sono secondo voi i due nomi giusti per le fasce a terra dell'Inter a destra e a sinistra? scrivetemelo qua sotto e poi a giugno e luglio agosto vedremo chi di voi avrà avuto ragione e farò un video apposta in cui leggeremo le vostre previsioni di mercato ragazzi vi ringrazio nuovamente perché vi sta iscrivendo tantissimo in questo canale che è comunque aperto da molto molto poco continuerò a fare video quindi se volete scrivetemi qua sotto quali sono i prossimi video che volete vedere vi lascio come sempre il tastino qua sotto per iscrivervi al mio canale e qua sopra invece c'è la playlist di calcio mercato troverete tutti i giocatori più interessanti di questa finestra di gennaio ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi